Cari amici giuristi, cari appassionati di diritto, ben trovati, sono reduce da una lezione di penale in cui ho affrontato tutta una serie di argomenti decisamente importanti. Ho parlato delle circostanze del reato in rapporto agli elementi costitutivi, ho parlato della consumazione del reato, con particolare riferimento a quelle fattispecie che hanno il tempo come elemento molto rilevante, pensiamo ai reati permanenti, a quelli abituali, a quelli progressivi nell'evento o a consumazione prolungata. Ho parlato della famosa questione del rapporto che c'è tra concorso apparente di norme e concorso di reati e qui mi raccomando sempre di rammentare che abbiamo fondamentalmente due opzioni possibili, un'opzione più astratta e più legata alle fattispecie, alle fattispecie disegnate dal legislatore, e un'opzione più concreta invece legata appunto alla gravità dell'offesa al bene e all'interesse penalmente del reato. Come sapete il nostro corso, corso Magistratura Bracosi, continua fino a dicembre e siamo già in vista della nuova edizione del 2018. Presto avrete notizia dell'Open Day su questi schermi. A presto e buono studio!